Romano Giardini, obiettivo centrato dalla Lube, semifinale che sarà di nuovo contro Piacenza. Cosa ha fatto la differenza questa sera? La differenza l'ha fatta che abbiamo giocato bene, abbiamo giocato fortissimo, soprattutto nei momenti in cui dovevamo recuperare il punteggio, tipo nel secondo set dove eravamo sotto di tre o quattro punti. La cosa importante è che i ragazzi, indipendentemente dall'avversario, pur sapendo a un certo momento che la classifica ci avrebbe riportato a Piacenza, hanno continuato a giocare e sono contento perché alla fine è venuta fuori in una prestazione. Noi stiamo cercando di portare un pochettino più di continuità e di onorare questo playoff quinto posto, ci stiamo riuscendo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.